Nell'ambito di un'indagine coordinata alla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli hanno tratto in arresto in flagranza quattro persone residenti a Napoli per i reati di produzione e commercializzazione di banconote contraffatte. Gli indagati sono stati sorpresi e tratti in arresto mentre erano intenti a stampare e confezionare le banconote della nuova serie Europa, pronte per essere illecitamente immesse nel circuito legale. All'interno dell'opificio ricavato in un appartamento sito nella zona est di Napoli sono state rinvenute oltre 68.000 banconote contraffatte di pregivole fattura di vari tagli per un valore nominale complessivo di oltre un milione di euro. In particolare tra le banconote sequestrate, oltre a quelle del valore di 20, 50, 100 e 200 sono stati rinvenuti anche numerosi biglietti da 5 euro un taglio inusuale ma molto insidioso per i cittadini proprio in ragione dell'importo poco rilevante che difficilmente induce sospetti nei soggetti che ne entrano in possesso. Sono state sequestrate due stampanti a getto d'inchiostro ad alta definizione con cui gli indagati provvedevano alla parte grafica e cromatica delle banconote tre stampanti laser con cui veniva perfezionato il processo di stampa mediante l'apposizione dei numeri di serie e di altri elementi di sicurezza come ad esempio la filigrana un'etichettatrice semiautomatica appositamente modificata con la quale veniva effettuata l'applicazione dell'ologramma un tagliacarte professionale dotato di software automatico utilizzato per suddividere e tagliare in quattro esemplari i fogli formato A4 sui quali erano state stampate le banconote da 20, 50, 100 e 200 e in sei esemplari per le banconote da 5 euro un tagliacarte manuale e tre pc collegati alle varie stampanti impiegate